Non è ancora ufficiale ma sembra solo questione di ore. Il commissariamento del PD Irpino, rischio paventato qualche giorno fa dall'On. Famiglietti, diventa realtà. Sarà con ogni probabilità il deputato renziano Davide Ermini a guidare i Democrat di Via Tagliamento, anche se c'è chi ancora non crede che questa sia la strada intrapresa. Ma si farà o non si farà questo congresso il 24 settembre? Io credo che una cosa che è stata condivisa in questa straordinarietà da dopo il referendum costituzionale, rinviate per queste motivazioni il congresso nazionale e poi l'elezione amministrativa da parte della segreteria, giustamente nazionale. La Commissione sta lavorando nell'indirizzo generale, aveva dato un'indicazione Roma per permettere di ritirare questa eventuale testa online, quella con il bonifico una alla volta. Sono andato a partiti in alcune sezioni rispetto a un numero altissimo, hanno ritirato un centinaio, quindi ci sono tutti presupposti. Il senatore De Luca dunque frena sull'ipotesi del commissariamento. Ci sarebbero tutte le carte in regola per celebrare il congresso di Via Tagliamento ed in questo senso si continua a lavorare. Lunedì si sarebbe anche riunita la Commissione provinciale per concludere l'iter degli addempimenti congressuali. Ma far saltare la pazienza di Roma e ritardi nella presentazione di liste e candidati, presentazione che sarebbe dovuta avvenire entro fine luglio, ma che Via Tagliamento ha preferito far slittare al 29 agosto. Insomma la strada spianata per il congresso provinciale di settembre torna ad essere una strada tortuosa e tutta in salita. Il PD di Via Tagliamento non è riuscito ad avere la meglio sulle decisioni di Roma, nonostante la presenza nella direzione nazionale di due esponenti irpini.